Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo della Canon del Moterra, parliamo della NIO Carbon 2, ma in generale voglio approfondire anche un po' l'evoluzione che questa e-mountain bike iconica per il macchio Canon del ha avuto nel corso degli anni, ovvero da quando è stata presentata circa nel 2016-17 e di cose ne sono cambiate molte. Voglio approfondire questo argomento con 7 punti che mettono a confronto l'evoluzione, quindi i modelli iniziali della Moterra con quello attuale, considerando anche il fatto che la Moterra è declinata anche in versione LT, quindi più orientata verso l'enduro, quindi con più escursione. 7 punti abbiamo detto, ma prima voglio darvi due dati. Il peso della versione Carbon 2 che è di 24,98 kg in taglia L senza pedali, con gomme con camera d'aria e un porta borraccia e il prezzo di 7.499 euro. Sono due fattori, due parametri che andremo a considerare durante questo video, quindi cominciamo subito. Estetica più sicura. Se ricordate la prima Moterra creava delle reazioni amore e odio, era un oggetto molto particolare con un telaio in lega leggera ad alluminio, dalle forme molto ardire, che ricordavano un po' le Canon del passato, quel desiderio di essere così distinguibili, così diversi rispetto agli altri marchi. Questa caratteristica nel corso degli anni, soprattutto dal 2019, quando è stata presentata la versione più moderna della Moterra, si è andata un po' a perdere. Quindi l'estetica è diventata un po' più sicura, un po' più classica, proprio per andare incontro ad una schiera di utenti più ampia possibile. Quindi abbiamo una sospensione 4 pivot, 4 bar linkage, al posto della sospensione mono pivot, diciamo indiretta con un piccolo leveraggio che caratterizzava la primissima versione. 150 mm di escursione davanti e dietro sulla versione Neo Carbon 2. Quindi questi sono due fattori estremamente interessanti che rendono la Moterra un po' più diciamo prevedibile, forse meno riconoscibile da un punto di vista estetico. Secondo punto, più facile da guidare? Beh diciamo che qui entrano in ballo diversi aspetti. Uno senz'altro da menzionare è il fatto che appunto la sospensione è diventata un 4 bar linkage come potete vedere e ha un comportamento collaudato, efficiente, efficace e soprattutto anche un po' più prevedibile. Di fatti abbiamo che nella fase iniziale della compressione la sospensione di questo tipo ha un comportamento diciamo regressivo, quindi mangia parecchia corsa con poca e poco movimento della sospensione posteriore. Questo conferisce alla bicicletta un feeling molto più sensibile, più facile, più comodo e allo stesso tempo fa sì che il ciclista sia più seduto in mezzo alle due ruote, quindi aumenta anche la confidenza di guida, abbassa il baricentro. Insomma ci sono tanti fattori che caratterizzano un po' la sospensione 4 bar linkage di oggi della Moterra ma di anche di tante altre mountain bike con questo schema sospensivo. Ci sono anche altri aspetti ovviamente da considerare, il telaio in fibra di carbonio che sicuramente contribuisce a rendere la guida un po' meno brusca, a filtrare le vibrazioni, le sconnessioni un po' più forti ed è un comportamento tipico della fibra di carbonio rispetto al telaio in alluminio della prima, della Moterra della primissima ora. Terzo punto, geometria collaudata. Diciamo che questa è un'esperienza al quale fanno ricorso tantissimi marchi di mountain bike e e-mountain bike, per cui le geometrie sono abbastanza standardizzate in questo momento e se andiamo a guardare, negli ultimi anni, due, tre anni, non hanno avuto un rivoluzionamento, uno stravolgimento significativo, diciamo si sono assestate su questi valori. Questo insieme di cose rende la guida, molto più prevedibile, in qualche modo ci si sente più facilmente a casa su una bicicletta del genere, senza dimenticare che la versione Nio adotta ruote da 29, davanti e dietro, mentre la versione LT della Moterra adotta 29, 27,5, quindi per un uso ancora più spinto, ancora più greviti e di fatti aumenta anche le escursioni. Quarto punto, il motore Bosch, è Bosch e si da quando la Moterra è Moterra, è sempre stata la drive unit tedesca a caratterizzare le risposte, le prestazioni, il feeling con la guida di questa e-mountain bike. Qui abbiamo l'ultima iterazione, lo Bosch Smart System, sul quale mi sono dilungato con un video proprio dedicato al Smart System e in particolare alla modalità Tour Plus che mi ha davvero impressionato. Qui c'è un video che vi invito a guardare se non l'aveste già fatto, quindi cambia ovviamente le prestazioni, l'ingombro, i pesi anche del sistema perché appunto ci arriveremo, il discorso peso merita un po' più di attenzione. Quinto punto, il peso. Il peso è qualcosa che in qualche modo mi ha lasciato un po' perplesso e diciamo che mi ha spinto proprio a ragionare, ad approfondire questo dettaglio. Perché questa bici pesa così tanto rispetto alle precedenti in sostanza. Noi abbiamo testato in passato la Moderna SE che aveva un travel di 140-130 e pesava 22,7 kg, sempre in taglia L. La versione LT di qualche anno fa, come potete vedere da queste immagini, aveva un peso di 23 kg e rotti, quindi comunque di meno rispetto al peso di questo modello qui. Ma che cos'è che incide così tanto sul peso? Ebbene ci sono diciamo due fattori che secondo me meritano particolare attenzione. Innanzitutto la batteria. Questa qui è una batteria Bosch Power Tube da 750 wattora, il cui peso è di 4,7 kg. Bisogna confrontarlo con il peso della Power Pack di Bosch da 500 wattora, ovvero la batteria che poteva essere alloggiata nel tubo obliquo, chiamiamolo così, che appunto pesava di meno. Sebbene la differenza sia di 250 wattora, il peso è significativo perché parliamo di 4,7 kg la 750 wattora versus 2,6 kg della 500 wattora. Quindi la differenza è 1,6 kg è qualcosa e che comunque si fa sentire innegabilmente. Un altro discorso rinerente al peso riguarda il telaio. Qui abbiamo nel tubo obliquo, abbiamo abbandonato sostanzialmente il disegno tubolare di questo tubo. Di fatto ha una sezione diciamo AC. Questa sezione AC è meno efficiente di quella tubolare e quindi per ovviare a questa cosa bisogna aumentare gli spessori e il peso inevitabilmente aumenta. Quindi sì, è in fibra di carbonio il telaio, però la forma del tubo obliquo più la necessità di dover alloggiare al suo interno una batteria lunga e pesante più il motore, insomma sono tutti fattori che fanno sì che un telaio in fibra di carbonio non riesca ad essere così tanto leggero come ci si aspetta. Di fatto oggi si ricorre alla fibra di carbonio per migliorare un po' il rapporto fra leggerezza e solidità e rigidità del telaio rispetto alla lega leggera. Il guadagno però, se andiamo a vedere, si avvicina al chilogrammo, forse in alcuni casi anche meno, quindi sono considerazioni che è opportuno fare. Altro piccolo dettaglio, potrei citare le ruote perché qui abbiamo ruote da 29 pollici mentre sull'emoterra che vi ho menzionato e che abbiamo testato in passato erano da 27,5 pollici. Pochi etti? Sì, però anche questo sicuramente contribuisce a fare la differenza sul discorso peso. Sesto punto, cosa non convince? Beh diciamo che ci sono due aspetti sostanzialmente. Il primo riguarda il passaggio dei cavi. Allora assistiamo da diversi anni a tante implementazioni da questo tipo, da tantissimi marchi di mountain bike e di mountain bike, per cui avere i cavi a vista è qualcosa che in qualche modo riduce la qualità percepita della mountain bike, dell'oggetto. Questa cosa è vera, sì, ma a mio avviso dovrebbe essere un po' ridimensionata perché se da un lato migliora l'estetica, dall'altro si complica molto la vita a chi dovesse mettere mano all'attacco manubrio, a variare la sua altezza, variare la sua lunghezza, quindi sostituirlo di sana pianta, oppure dover anche fare delle manutenzioni al registrella telescopico, oppure ai freni. Insomma ci sono tanti fattori che rendono questo passaggio qui, in particolare qui sulla moterra, si concentra proprio sulla parte superiore del tubo sterzo, ebbene lì diventa un nodo estremamente delicato sul fronte manutenzione. Quindi la domanda che mi pongo, e che non riguarda solo la moterra, sia chiaro, è ma ne vale la pena davvero di sacrificare la facilità di intervento per un'estetica un po' più pulita? Questa è una bella domanda, lascio a voi una risposta. A mio avviso vi dico forse no, però diciamo che la bike industry sta andando in questa direzione, speriamo che ci siano dei miglioramenti un po' più ragionati sul fronte della facilità di personalizzazione e manutenzione. Altro punto riguarda il prezzo, 7.499 euro in relazione anche all'allestimento di questa e-mountain bike, non sono proprio un prezzo super competitivo, però è anche vero che se parliamo di marchi di un certo spessore, di un certo blasone, quale Canon Dale è, è inevitabile che il rapporto qualità-prezzo sia, come dire, leggermente, in apparenza, meno conveniente. C'è il discorso della maggiore appetibilità sul fronte dell'usato, per cui tiene maggiormente il prezzo e il suo valore, questo sicuramente va detto, però per 7.499 euro forse mi sarei aspettato un reparto sospensioni, ruote e gomme migliore, più capace, più coerente con l'indole di questa bici e delle sue effettive capacità poi. Quindi questa è una cosa da segnalare. Posso segnalarvi che il discorso freni è tutto sommato non male, abbiamo gli SLX che sono un miglioramento rispetto all'equipaggiamento previsto nella scheda tecnica ufficiale e i dischi sono gli SM Shimano, SM RT 64 con 203 mm di diametro. Non sono high stack e a mio avviso riescono a dare qualcosina in più rispetto ai dischi di pari diametro high stack Shimano. Ultimo punto, quale Motera Neo scegliere? Questa qui è la versione in carbonio, Carbon 2, ma esiste anche la Motera 3 che non è in carbonio, è un taladio in alluminio, un allestimento meno raffinato certamente, però il prezzo scende in maniera significativa perché si passa da 7.499 a 5.999, quindi 1.500 euro esatti di differenza. Se il peso aumenta o non aumenta non ve lo so dire onestamente perché non ho avuto modo di pesarla, inevitabilmente dovrebbe essere leggermente superiore o chissà forse anche uguale rispetto a quello di questa bici, però il risparmio in termini di prezzo non è proprio marginale. Poi bisogna aggiungerci anche il discorso dello sconto che si può avere oggi in negozio. Quindi questa è un po' l'evoluzione che la Canon del Motera ha avuto nel corso degli anni e soprattutto questa è oggi la Canon del Motera Neo Carbon 2, una e-mountain bike da trail riding all mountain molto capace con uno schema sospensivo classico se vogliamo, prevedibile quanto volete, se vogliamo anche abbastanza anonima, passatemi questo termine, ma estremamente efficace e capace. Quindi è cambiata molto, si rivolge ad una fetta di pubblico molto più ampia che in passato e a mio avviso da questo punto di vista Cannondale ha fatto centro. Oggi sviluppare uno schema sospensivo più facile, migliore rispetto al Ford Bar linkage non è molto semplice, però chissà che magari qualcosa del genere non esca fuori dal cilindro magico di Cannondale e ritorni a fare biciclette diverse, originali, come succedeva in passato. Staremo a vedere. Per adesso vi saluto, vi invito ad iscrivervi a questo canale, è qualcosa che noi apprezziamo tantissimo da parte vostra. Se ci sono domande scrivetelo nei commenti e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.